All'alba di oggi in via Zara a Scafati è finita la latitanza di Vincenzo Starita, pregiudicato di 39 anni. I carabinieri lo cercavano dal 17 giugno scorso, quando nei suoi confronti il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta dell'antimafia partenopea aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Poggio Reale. Starita era finito nella rete del ROS e del reparto territoriale dell'arma di Nocera Inferiore insieme ad altre 17 persone indagate a vario titolo per i reati di detenzione spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, usura, ricettazione, detenzione, porto e vendita di armi comuni e da guerra. Accertamente cominciati nel 2011 e finalizzati alla ricerca di Francesco Matrone inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità in ambito nazionale poi tratto in arresto ad Acerno. Finita la sua fuga era cominciata la certosina ricostruzione degli appoggi di cui aveva fruito con controlli delle persone storicamente in contatto con lui e la sua famiglia. Erano così arrivati i carabinieri ad individuare un circuito di soggetti dell'area vesuviana a cavallo delle province di Salerno e Napoli risultati dediti alla commissione di affari illeciti in materia di stupefacenti, armi ed usura. Tra essi anche Vincenzo Starita. Insieme ad esponenti apicali del clan Gallo Limelli-Vangone dell'area vesuviana, Starita sarebbe stato, nell'agro, punto di riferimento per l'acquisto di armi da fuoco comuni e da guerra, in particolare i fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. Durante le indagini sono state documentate in video le trattative con gli esponenti di una consorteria di rapinatori dediti ad assalti armati a furgoni portavalori, interessati proprio all'acquisto di Kalashnikov e relativo funzionamento. Eccole le immagini catturate dai carabinieri grazie a delle micro camere piazzate proprio a scafati nei pressi di un'autocarrozzeria, di cui la denominazione meccanico per uno dei blitz che ne scaturì.